Vittoria per il Belgio all'esordio in questi mondiali a Bari contro Cuba. Quali sono le cose positive di questa vittoria? Quali sono gli aspetti positivi di questa vittoria? Abbiamo avuto un ottimo ricevo, quindi potremmo giocare con tutti i giocatori e anche con le nostre medaglie. Ci hanno scoperto ogni pallo e a volte in un ruolo avevamo un blocco. Quindi credo sia la cosa più forte della nostra squadra. Gli obiettivi del Belgio? Quali sono gli aspetti di questa vittoria? Beh, oggi abbiamo avuto un buon servizio, quindi dobbiamo giocare sempre con il nostro forte servizio. E spero che possiamo andare al secondo round. Grazie, grazie.